Salve carissime, carissimi voi tutti che mi seguite, benvenute, bentrovate, ben svegliate, buongiornissimo dalla vostra Zaira. Allora, come state? Spero bene. Io mi sento molto bene, molto energica, molto piena di positività, energia molto positiva che voglio trasmettervi a tutti quanti. Allora, come vedete la mia postazione è sempre meravigliosamente assolata, anche questa è una nota bella, perché il sole è l'energia suprema e ciò che scalda tutto è l'energia del mondo. Noi viviamo grazie a questo sole che ci illumina, ci riscalda e ci dà la vita. Allora, vedete qua le mie carte, quindi iniziamo a fare il messaggio del giorno, inizio a mischiare, qui oggi ho scelto diversi mazzi di tarocchi, abbiamo i tarocchi dell'indovino che sto mischiando adesso, poi abbiamo i tarocchi della sessualità wicca, abbiamo le famose Sibille Lenormand, abbiamo gli angeli, le risposte degli angeli, le carte dell'adivinazione e per finire i miei 156 pensieri raggruppati nelle mie carte verdi e gialli che le mie fedelissime conoscono molto bene e hanno imparato ad amare. Allora, ragazze, questa linea qui riguarda un po' la vostra vita professionale, studi, imprese, soldi, lavoro, possibilità di lavoro, tutto ciò che può rappresentare, dico sempre, anche uno scoglio a volte quando abbiamo delle situazioni sentimentali che non ci fanno stare granché bene. Adesso andiamo a vedere le occasioni che si prospetteranno, quello che l'universo vi vuole mandare, vediamo cosa c'è di buono per voi anche relativo alle occasioni. Invece con queste meravigliose carte andiamo a vedere la vostra energia predominante. Allora ragazze, io lo sapete, lo dico tutti i giorni, ma voi mi consentite per favore di a volte ripetermi, perché io devo sempre tenere presente che una persona nuova apre questo interattivo e non capisce io che sto facendo. Allora, qui non andiamo a fare l'oroscopo, nel senso non è il messaggio cosa vi deve succedere oggi. Oggi è il giorno in cui vi deve arrivare qualcosa dall'universo, una notizia, un numero, una parola, una frase, una storia, insomma, qualsiasi cosa è prevista per voi in questo giorno che è necessario, che voi dovete sapere. Ora, per la legge della sincronicità è chiaro che se io casualmente con sei mazzi diversi di carte, prendo alcune carte ed escono delle situazioni, delle storie, dei personaggi e voi vi riscontrate, ecco che la sincronicità è in atto. Quindi qualcosa si sta muovendo nell'universo che voi dovete assolutamente sapere. Ora, questo però ovviamente non vi impone a prendere decisioni oppure a pensare che è l'esito definitivo della vostra vita. Assolutamente no. Sono sempre interattivi, collettivi generali, quindi giusto peso, giusta prospettiva. Se vi arriva qualcosa, chapeau, come dico io. Però poi approfondite se è il caso, se vi sentite di sapere di più o di prendere una decisione, dovete fare un consulto personale. Perché solo lì si parla di voi, questi sono sempre collettivi generali, si può parlare di voi fino a un certo punto, le storie sono simili, quindi potrebbe essere che voi pensate che si parla di voi e magari si parla di voi ma non fino alla fine, quindi l'esito potrebbe essere diverso. Quindi solo un consulto personale dove appunto c'è il vostro nome, la vostra data di nascita, allora lì non c'è ombra di dubbio che si parla di voi. Detto questo, lo dico per precisazione perché voglio che voi non vi illudiate, né troppe aspettative né poche, giuste. Questi interattivi sono a scopo di intrattenimento, prendiamoli così per divertirci, stare un po' insieme, nel contempo qualcosa arriva, perché io vedo che qualcosa arriva. Allora ragazzole mie, ovviamente vi invito anche a mettere il like quando ho finito, lo dico per chi non lo fa, ovviamente invito chi non lo fa di iscriversi al canale se non l'avete già fatto. Insomma queste sono frasi di rito che io dico per le persone nuove, quindi chiedo scusa a chi già fa tutto e mi segue giornalmente, però consentitemi di ampliare un po' anche questa situazione. Ecco qua ragazzole mie, ho terminato, vediamo un po' qua che cosa c'è. Allora intanto partiamo da queste due carte che sono l'attesa e il turbamento, quindi abbiamo queste due carte, nove di bastoni e due di quadri. Ora questi sono i tarocchi dell'indovino, vedete, questi tarocchi dell'indovino hanno dei significati diversi, a parte il fatto che si leggono sia a dritto che a rovescio, qui c'è un'attesa, dei ritardi, delle difficoltà in affari, delle situazioni che si devono realizzare. Voi aspettate, ci sono delle cose infreddolite, dei rapporti freddi con qualcuno o qualcosa che vi portano a questa situazione. Però qua ci saranno degli incontri che vi daranno soddisfazione, quindi se state cercando un lavoro ci sono dei ritardi, ma ci sarà, lo troverete, ci sarà questo incontro fortunato che vi porterà al lavoro. Ok? Quindi se invece avete già un lavoro, probabilmente ci sono dei ritardi in affari, qualcosa non va come dovrebbe andare, però tenete duro perché comunque ci saranno degli incontri che vi daranno delle soddisfazioni e vi toglieranno proprio dall'imbarazzo. Allora, per quanto riguarda invece gli incontri, le occasioni, le cose importanti, qua abbiamo la carta dei pesci e poi abbiamo la carta della luna. Allora, la luna ci parla di desideri, quindi di sogni, di cicli, di intuito e anche una carta ciclica, quindi è come se voi qua dovete in qualche modo trovare, incontrare o vedere. O qua c'è un ciclo che si rinnova, che vi darà sicuramente abbondanza, indipendenza, cioè vi donerà libertà, insomma è una cosa positiva che vi deve succedere. Qualcosa che voi sognate, qualcosa che vi state attraendo. Ora, la vostra energia è una bellissima energia, vedete? Qui abbiamo un aiuto e felice è felice. Quindi qua queste due carte vi consigliano di chiedere un aiuto. Quando c'è un aiuto significa chiedete e vi sarà dato, perché ci saranno sicuramente persone giuste al momento giusto. Quindi dovete anche a volte delegare agli altri, accettare gli aiuti degli altri. Come si dice, chiedi e ti sarà dato, ma se voi non chiedete, a volte non è che le persone vi leggono nel pensiero. Quindi se dovete chiedere aiuto, chiedetelo, vi farà bene. E poi c'è la carta felice, felice. Quindi qua sicuramente questa carta indica la felicità, quindi che dirvi? Un desiderio realizzato, un rapporto felice che va come voi volete, una gioia, una soddisfazione, una realizzazione di un legame felice. Insomma, godetevi questo momento. È un momento felice, quindi godetevelo. Allora, andiamo a vedere adesso il piano sentimentale, prettamente sentimentale. Allora, qui ci sono delle carte. Allora, andiamo prima dai tarocchi, così cerchiamo di capire nei sentimenti cosa state vivendo. Aspettate, mi avvicino a queste carte che già sono un po' strane. Abbiamo il matto, abbiamo la regina di bastoni e il dieci di spade. Ecco, lo individuate. Allora, qui abbiamo un matto, quindi qua c'è un istinto primordiale, c'è una persona negata forse per i legami, c'è una persona che vive di irrazionale, è anche un po' anticonformista, è una persona che agisce un po' a modo suo. Però, vedete, per voi ha una sincera passione, sì, molto, molto appassionato di voi, è anche geloso, è anche geloso. Qui c'è stata una chiusura, abbiamo il dieci di spade, è una sconfitta. C'è qualcosa che ha portato voi, lui o entrambi, a una disperazione. Vediamo ancora, abbiamo dieci di bastoni e sette di bastoni. Qua vediamo molte carte di bastoni, quindi qua abbiamo la regina di bastoni, poi abbiamo anche il quattro di bastoni. Qua abbiamo, diciamo, questo matto che ha un bastone, vedete, anche lui ha un bastone, quindi qua c'è molta attrazione, molto fuoco, fuoco che arde. Infatti questa carta ci parla di attrazione fisica, mentale, molto forte, molto, molto forte. Che però porta anche una sofferenza, perché, vedete, questa brucia brucia di passione, ma qua sta a morire nel rogo, quindi la passione va bene, va bene tutto, però bisogna avere un equilibrio. Questo equilibrio qui non c'è, quindi qua state difendendo qualcosa perché volete, come dire, risvegliare gli intendi, volete ritornare a una interazione più positiva, perché, vedete, fra voi e questa persona c'è proprio un'armonia, un accordo, cioè un'armonia nel senso alchimico, no? Perché questa è la carta di combattere, difendere ciò che conta. È la carta della coppia, è la carta dell'amore karmico, per cui, non ve la faccio più vedere perché queste sono le carte della sessualità. La wicca va a finire che YouTube mi blocca il video. Comunque è una carta che ci porta a una perfezione, a un legame perfetto. Quindi voi, voi che si dica, nonostante queste problematiche, qua c'è molta passione, c'è molta passione, sia nel bene che nel male. Perché quando c'è tanta passione, c'è passione sessuale, fuoco e attrazione, ma c'è anche conflitti, litigi, arrivare agli estremi, no? Allora, questa persona qua dice, sono molto deluso da te, aspetto che fai la prima mossa. Sapete, queste carte sono, qualcuno vuole dirvi che, aspetto che fai la prima mossa, qua dice, eh beh, cadono tutti i miei piedi, quindi qua c'è proprio il matto, no? Quello che, insomma, l'anticomformista piacione che va con tutte le donne. Però questa persona dice, mi manchi e nonostante tutto non riesco a dimenticarti. Quindi qua c'è una situazione di questo genere, però questa persona gli mancate, aspetta che fate voi la prima mossa perché questo è abituato che tutti gli cadono ai piedi, quindi, insomma, eh. Però, mi mancate, non riesce a dimenticarvi e sicuramente è deluso da voi perché voi avete cambiato rotta qui, eh. Qua io vedo una regina di Bassoni, una persona molto, molto potente, un'energia potente. Cioè, a voi non va ammazza proprio nessuno, eh. Proprio nessuno. Infatti voi avete chiesto aiuto, ma evidentemente a voi stessi. Qua vi aspettate una situazione ciclica che ritorna, magari dentro di voi ve l'aspettate, però in questo momento voi siete felici, consapevoli e non ci pensate proprio a fare la prima mossa. Cioè, voi magari dite, per me tu puoi morire che io faccio la prima mossa. Però qua gli angeli vi dicono, pensa positivo e si deciso. Adesso, queste due carte, ehm, io le voglio aprire, ma pensa positivo, va bene, ma si deciso a cosa? Vediamo a cosa dovete essere deciso. Prendiamo un'altra carta. Allora, dovete essere decisi a trovare una risposta. Quindi dovete meditare e trovare una risposta e finalmente essere decisi. E qua dice fidati, quindi vi dovete fidare un po' di quello che voi sentite, eh. Quindi dovete meditare, trovare una risposta ed essere deciso in quello che appunto poi, meditando, riuscite a capire. Una cosa è certa. Qui c'è un momento vostro felice. Quindi qua un desiderio si realizza, un rapporto felice, una gioia, una soddisfazione, un legame che diventa bello. Insomma, qualcosa vi deve arrivare. Adesso potrebbe essere legato a questa persona. Perché no? Perché io qua vedo che voi siete un incontro carmico, eh. La coppia. Comunque siete una coppia ben amalgamata, anche se ci sono questi conflitti. In ogni caso, vedo questo messaggio positivo, perché voi dovete pensare positivo, siete già felici, siete decisi, dovete meditare, trovate una risposta. Magari chiedete pure aiuto a qualcuno che vi possa, diciamo, aiutare a capire bene. Questa persona sarà un po' piaciona, un po' piena di sé, abbiamo un matto, una persona con un'energia un po' così, vi crea tanti conflitti, per carità. Però, vedete, questa persona, voi gli mancate, non riesce a dimenticarvi. Quindi, probabilmente, potrebbe anche, con la ciclicità della luna, perché no, ritornare da voi, combattere, cercare un accordo, un'armonia, una pace, per la ricostruzione di questa unione. Ragazze, questo è tutto. Io vi ringrazio di essere stati con me. Vi do appuntamento a domani, non mancare. Non mancate un abbraccio di luce a tutte quante voi. E voglio salutarti con questa bella frase. Vedete, questa me l'hanno regalata. Vi voglio leggere questa frase, che è bellissima. Il modo in cui ami te stesso è il modo in cui insegni agli altri ad amarti. Un abbraccio dalla vostra Zaira. Ciao!